Renzi apre il Movimento 5 Stelle, innanzitutto ci dica su che cosa apre, quali sono gli argomenti. Se è la legge elettorale, lui deve sapere e sa perfettamente che noi partiamo dal Democratellum. Se sono le riforme costituzionali, noi non vogliamo abolire una seconda Camera perché si creerebbe con l'Italicum una dittatura della maggioranza. Se vuole aprire sul Presidente della Repubblica, faccia i suoi nomi, li faccia pubblicamente, noi faremo altrettanto per il bene del Paese, non certo per il bene del suo partito o di altri partiti.